Sono Federica Larker, lavoro presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali e Alimentari dell'Università degli Studi di Torino e noi già da molti anni ci occupiamo delle aree agricole, dei sistemi agroforestali, con particolare riferimento al territorio piemontese. Con città metropolitana, anche in questo caso, abbiamo da diversi anni instaurato una serie di collaborazioni, in particolare cercando di ragionare insieme su quelle che sono le necessità dei territori agricoli in contesto periurbano. Parte il nostro approccio, è un approccio interdisciplinare ovviamente, ma che parte un po' dalle aziende agricole, quindi dall'idea che occorra ragionare sulla sostenibilità di queste aziende agricole in termini ecologici e ambientali, ma anche in termini produttivi per garantirne la loro presenza sul territorio. Le aziende agricole e l'agricoltura in area metropolitana esprime moltissimi aspetti positivi, in particolare negli ultimi anni si sta lavorando molto nel contesto del progetto Nutrire Città Metropolitana per ragionare su come l'agricoltura in ambito periurbano possa contribuire a migliorare la salute, il benessere e la qualità di vita dei cittadini.